Di tutte le follie che abbiamo provato fino ad ora, questa è senza dubbio la più folle Perché quest'oggi proviamo una cosa assurda Io e Ferri avremo 5 minuti per luttare e per costruirci un nostro fortino Un mini fortino Dopodiché i 98 consolini che fanno parte di questo match dovranno soltanto col piccone venire lì Distruggere tutto il fortino e cercare di ammazzarci Sarà una roba totalmente epica Quindi fortino che verrà assalito dagli zombie consolini Esattamente Molto semplicemente Allora ci serve tanto loot Ci serve, ci serve, ci serve tanto loot Io ti direi Perché loro ancora non sanno dove ci butteremo Gli abbiamo detto su Discord che glielo diremo man mano A Prod'Aventurato Esatto, man mano che andiamo avanti Quindi dopo che noi finiamo i 5 minuti Noi finiamo i 5 minuti, ci prendiamo equipaggiamento Iniziamo a costruire, diciamo Ok siamo qui, infatti penseremo anche a vedere di stare dentro la prima zona Perché è molto importante Costruiamo e si parte con la guerra Sarà una roba pazzesca perché immaginatevi il 98 player che ti accerchino e cercano di distruggere giù il forte Ovviamente il rischio di fine le munizioni è altissimo Altissimo Quindi dovremmo gestirci molto bene i colpi E potrebbe diventare una battaglia fantastica Secondo me non dureremo troppo Secondo me non ce la facciamo Il fortino Però loro sono a piccone Facile da distruggere I colpi non sono infiniti Mentre invece le picconate sono infinite Già Sai com'è Steph Sai com'è Lo so, lo so, lo so Allora inizio facendo questa torre qui a lato Che è perché no Siccome ci sono atterrata Dai, dai, dai Mi raccomando Luttiamo bene Fere Allora Subito M16 e Scilini Bene Munizioni e legna Ovviamente ci serve Infatti anche materiali C'è un casino Ci serve un botto Un botto Un botto di roba Ok, allora Altre munizioni qua Me ne servono davvero tante Delle M16 Io cerco di prenderne Prenderne il più possibile Ma non sarà semplice Ti consiglio solo una cosa Di cure Ok E tutto il resto Armi Perché devi avere armi di tutti i tipi Per avere le armi di qualunque cosa A livello di caricatori E così via Ok, sì, sì, sì Molto, molto, molto importante Siamo lontanini dalla zona Credo che noi ci faremo il forte A boschetto Sì, sono d'accordo Hai messo una trappola? No Mi sembra di sentire un male di una trappola Ma davvero? Eh, magari c'è il volume basso Magari è qualcosa che mi si è rotto Non mi far mettere ansia, Steph Che ci manca solo che moriamo così Cavolo, ho due consolini di fronte a me Porca miseria Sono a piccone? Eh, sì, 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 sì Ok Ok Oh, cavolo, mi hanno visto Mi hanno visto Eh Non vinta di nulla, Steph Ma che mi sa che mi stanno puntando Ma Tu spari? Sì Ti hanno sparato? No, sono io Ah Ma ti vogliono uccidere o cosa? No, no, bisogna Assolutamente Ma porca Che sta succedendo? Miseria Eh, dicevo che bisogna per farci ammazzarli Perché Ti volevano uccidere a piccone? Eh, no, Ferre Non possiamo far sapere la posizione Ah, giusto Potrebbero scriverla agli altri, capito? Eh, vabbè Andiamo, 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 andiamo Che duro Ma vabbè, tanto tra poco la diciamo pure Esatto Così poi nel mentre che facciamo il fortino Iniziano a venire, no? Esattamente Perché conta che molti saranno anche lontani Sì, sì, ci serve giusto un attimino il tempo Di preparare un minimo di fortino E poi loro devono iniziare ad arrivare Pazienza Perché Pensavo ci sarebbe voluto meno a luttare Ma effettivamente Se non lutti almeno un pochettino Non c'è neanche speranza Esatto, esatto Poi adesso vediamo Se cambiare la città in base a come chiude la zona Sì Vedi? Perfetto Perfetto, perfetto, perfetto Allora andiamo dritti, no? Ci mettiamo al centro tra Pinnacoli e Parco Pacifico Ok Però hanno ragione solo Pinnacoli Porca Oh, mamma mia Mi giro, non c'è più nulla Allora, saltiamo un pochettino Pinnacoli Sì Sanno che siamo tra Pinnacoli e Parco Pacifico Perché ho iniziato a dirlo Ma noi non l'abbiamo ancora guidato Allora, c'è uno dietro di me Non so se vuole già iniziare a picconarmi Eh, sì, sì, scusa, ma Eh, devi, 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 devi Ok Sto anche anche l'altro devo Eh, non ho capito se mi vuoi picconare o no Ma Mi piace Almeno state fermi E perché dovrebbero? Perché non mi picconi Ok Ok Mazz, 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 mazz Eh, sì, servono, servono Uh, son full mazzio Passiamo il portino, Steph È freddo, dobbiamo andare leggermente più avanti Sì, 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 sì Corri, 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 corri Vabbè, penso che comunque se lo facciamo visibili Ci trovano E che non ci voglio mettere troppo Perché adesso ci arrivano, Steph Quindi dobbiamo essere Lo so Adesso andiamo leggermente più avanti Superiamo un minimo pinnacoli Iniziamo a bullare Ok Vai corri 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 All'incirca dopo quella casa distrutta In quello spiazzale può andar bene Sì sì anche secondo me Sì sono d'accordo L'avevo già visto infatti puntavo lì Perfetto 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 Ripeto ora corrono Conta che molti sono a pinnacoli Io gli ho visti un botto di persone Ancora a pinnacoli Quindi quelli ci arriva l'ondata Ci stanno cercando Per fortuna come ho detto Tra pinnacoli e parco Probabilmente vanno un pochettino Ancora più avanti di così Purtroppo il punto preciso Non potevo spiegarlo Perché non c'è una scritta Steph è pieno di gente Dobbiamo iniziare Ok io sto iniziando Dove sei? Ovviamente non fare alto Perché altrimenti poi Se ci distruggono ci fanno cadere Ma stiamo nello stesso fortino Sì? Sì 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 Ok Ammazzare la gente Io bullo Ok Ma non vogliono picconare ancora Mi spiace Cioè che devo fare? Arrivano arrivano Steph Spara Ok 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 Tutto a presto? Sì un botto di No arriva un sacco di gente Quindi fai attenzione Steph Ok Valgono anche le trappole Nel nostro fortino Certo No non dovete costruire anche voi È il nostro fortino Dai Che se mi costruite attorno Non si capisce la ceppa Cavolo Allora fare già un delirio Vero? Eh sì Te l'ho detto Che dovevamo muoverci Perché sarebbero arrivati Ok Ok una terra Ok Che è Nat Povero però Ok Qui non si guarda in faccia nessuno No Aiuto Ok Tutto a posto? Sì tutto a posto Tutto a posto Io li piccono Ok Scusate ma mi servono Aspetta che mi sta piccando un altro Oh sbucano come funghi Steph Ti giuro che sembra che sbucchino Tu devi pensare a sparare per ora Io sto billando Appena finisco di billare Sembra che sbucchino Da sotto terra Ok Colpi 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 Che arriva un botto di gente Ma chi è che mi spara Scusami Spero nessuno No no Qualcuno ha provato a spararmi Steph Anche a me Qualcuno No 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 Io sto sicura Dov'è che state sparando? Mi stanno massacrando Cerca di curarti Ok 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 Più o meno Dietro di te Eh lo so Steph Vorrei cercare un attimino Di tapparci qua le mura Vedi Vieni dentro Vieni dentro Perché se no se continuano ad entrarci così È un disastro Capisci? Infatti guarda Ah Bucano ovunque Bucano ovunque È difficilissimo Ah Ne ho troppi Steph Mi serve una mano Mi serve una mano Ne ho tipo 10 addosso Aiutami Anche io non ce la posso fare Aiutami Cavolo distruggono anche le trappole Ah Sto sparando a tutti Aiuto Quanti sono? Non ce la faccio Steph sono tipo 20 Aiuto Porca miseria Costruisco Costruisco Guardate Ok Non ho vita Non ho vita Non ho vita Ho troppi E muori Poi sta laggando un botto Come mi costruiscono Sono più morta che viva Steph Sono tanti Non ce la facciamo Ok Aiuto 10 di vita Steph 10 di vita E sto ricaricando Ne abbiamo ammazzato pochissimi Ok Ne hanno buttato giù Addio Vabbè io ne ho Ho 7 kill Ma ne ho buttato giù Molti molti di più Comunque uno mi ha finito Scusami sparando Eh Ha sparando No Mi ha finito col fucile a pompa Vabbè tanto Sappiamo tutti La fine che fanno I traditori Di sto gioco Ok Steph Come sti messo Osservo te Come puoi vedere Non molto bene Ok C'è C'è pure un trampolino Lì Che delirio Ok Allora io devo iniziare A cercare i sniperare Con questo Perché Hanno distrutto tutto il port Cioè Non è durato Una ceppa Che tristezza Già Allora Porca No 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 Se sparo con questo Mi raggiungo Mentre ho troppa ansia Perché mi viene da sparare Ovviamente di fretta Comunque Non so neanche Se è fattibile in quattro Steph Cioè oggi si prepara Prima un fortino È esageratamente enorme Capito Ma È facile da distruggere Con i picconi Quindi Lo so È tosta Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Purtroppo però Non possiamo decidere Dove chiudere la zona Capisci Lo so Cioè guarda la lag poi Sì Io infatti poi Sono morta Oh cavolo Con la lag Era davvero impossibile Farare L'ho arrivato a un punto In cui era possibile Eh lo so Steph Ci sono passata anch'io Io ero un venti attorno Porca miseria Cioè non so bene cosa fare Guarda Resisti più possibile Non puoi fare altro Ok Cerco di buttarne anche giù Perché altrimenti Perché loro non sapranno mai Dove sono Non fai colpire Lo so Abbi pazienza Steph Porca miseria Hai un fucile a pompa? Sì Con due colpi però Ah Ecco Secondo te Perché sto sparando con questo Lo so È tosta Poi sono tanti Ancora vivi Steph Ho visto ora Che sono qua 75 Mamma mia Cavolo Sono tanti Per essere tanti Ti picconano Ok Ok Ma porca Smettila Eh che smettila Ok Non ho colpi Ok Ok Secondo me lui Ha un po' di colpi Ma no 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 Occhio Tu hai colpi? Smettila Sì 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 Ricaricati un po' Ok Ok Prendite anche i colpi dal pompa Sì assolutamente Sono i più importanti Prenditele Ok 11 Adesso devo stare un po' nascosto Devo giocherla così Però capisci che sono 72 E poi qualcuno tra di loro Si sta sparando Esatto Quindi teoricamente Potrebbero anche sparare a me Non ci sono delle cure No Ok Allora Adesso Dov'è? Poveri Se li lascia pure rianimarsi tra di loro Vai a prendere No 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 Se no non la finisci più Esatto Hai visto? Sì Ok 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 Occhio fai attenzione che ne ne ho sopra Oh yes Sì lo so Devo cambiare quest'arma Sto seguendo Si sta nascondendo Vero? Eh non so No ma non era quello Ti seguiva un astronauta Quella la skin da uomo D'astronauta Stanno rimando nascosti Dietro i muri Ok Beh ti vorranno fregare Nel momento in cui sei più distratto Sì Capisci che più chiude la zona Più sono fregato Sì Sì Vedi Da dove? Eh io li ho anche sentiti Passi Non so perché non li hai sentiti Solo che eri talmente occupati Ok Cura non ne hai vero? No Occhio 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 C'era della C4 Aiuto Oh che ansia Che ansia Che ansia Lì non c'erano degli shield? Eh non so E poi chi è che prova a spararmi? Chi è che spara? E sento un sacco di persone che sparano però eh Eh sì ormai sì Ormai è il delirio sì La tua morte E il fortino distrutto in mezzo secondo Sono partiti Anche secondo me Sono partiti per quello Vabbè dai Cavolo 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 Devo pensare alla zona La zona zona 64 vivi Dimmi che non mi ha visto sto qua C'è gente che spara abbastanza vicino Ok Più bende perfetto Ok Allora hanno appena ucciso quello che stava sparando Quindi hanno fatto comunque bene Ok Devo farlo Giusto? Avevo visto bene? Che cosa? Non lo so C'è la lui Porca Eccolo Non perdere troppo tempo Steph Lo so Ci muori Non pensavo facesse tutto sto danno Eh certo Sei nella zona finale Infatti non so perché Perché pensavo fossimo ancora in zone minuscole E vabbè il fortino l'hanno fatto loro Il fortino di piramidi adesso Io adesso sto vedendo la visore Dio che è lì E ha fatto il fortino di piramidi L'RFG poteva essere una speranza Capisci? Però Oh mio dio Guarda che cavolo sono bullando E' troppo difficile Allora aspetta che io adesso scrivo Sparatevi tra di voi Ok e vediamo come va a finire E' di one Ok Uh Ok Bravo complimenti Ce l'ha fatta E balla bravo Comunque A metà Ce l'abbiamo quasi Se neanche per sbaglio Sto scherzando Troppate nei commenti Come provare a farlo in altri modi Per vedere se ci riusciamo